Esperti di tutta Italia a confronto sulle tecniche di intervento gastroenterologiche, in particolare sulla gestione delle emergenze quali emorragie digestive, ingestioni di prodotti caustici, colegistite acute e rimozione di corpi estranei. Questi in sintesi contenuti del congresso la gestione integrata delle emergenze urgenze in gastroenterologia che si è svolto nell'auditorium Gaetano Saporito di San Cataldo. Nel corso del congresso, presieduto dai responsabili scientifici Salvatore Camilleri e Marcello Maida, sono state illustrate le tecniche per il trattamento delle varie situazioni in ambito operatorio. Tra i relatori è anche il professore Armando Gabrielli, del Dipartimento di Medicina dell'Università di Verona, che ha messo a confronto le esperienze delle regioni Sicilia e Veneto nel campo della gastroenterologia. L'emergenza urgenza in gastroenterologia è un evento altamente drammatico. L'urgenza di intervenire salva la vita al paziente. E' chiaro che un'organizzazione capillare per gestire questi pazienti altamente critici assumono un'importanza notevolissima. La regione Sicilia ha creato proprio a gennaio, è uscito il decreto per la creazione della rete dell'emergenza. Ed è proprio quello che noi stiamo discutendo per risolvere qualche criticità che la rete ha. La rete è indispensabile perché il paziente critico deve essere portato subito dove può essere trattato e dove si può salvare la vita. Ed è importantissimo farlo subito. La rete darà questo tipo di possibilità.